Ciao a tutti, nuovo video! Oggi vi volevo parlare di un marchio italiano che ho scoperto così per caso, di cui ho provato alcuni prodotti e alcuni li sto ancora utilizzando, con cui mi sono trovata davvero bene. Questo marchio è Fitophilos, non so esattamente come si pronunci. Il primo prodotto che ho provato, che ho acquistato così per caso in realtà, perché avevo rotto il tappino, sono questi cristalli vegetali con semi di lino da 50 ml. Allora, questo è un prodotto che va utilizzato sulle lunghezze e sulle punte dei capelli. Se utilizzato prima dell'utilizzo del phon e della piastra, fa anche da termoprotettore. Io in realtà utilizzo solo il phon e non la piastra e devo dire che mi piace tantissimo. Prima di tutto la profumazione, perché rimane sui capelli, è delicata, una punta dolcina, davvero favolosa. E non sono i classici cristalli liquidi, diciamo che si è soliti vedere, perché ha una texture cremosa e un pochino più ricca. Però davvero, davvero un ottimo prodotto. Questa credo sia la seconda o la terza confezione che utilizzo ed è quasi finita. Non vi ho detto che questi sono, che Fitofilos è un marchio italiano che si occupa di fitocosmesi per la cura dei capelli e del corpo da parecchio tempo. E sono tutti prodotti certificati. IAB, vegan, cruelty free, eco-friendly, sono comunque prodotti di una certa qualità. Di Fitofilos utilizzo anche il loro enne numero 3, quindi un enne rosso, che tra l'altro dovrei rifare, perché si è un pochino spento, c'è la ricrescita, eccetera, che non ho però la confezione da mostrarvi. In concomitanza, cioè dopo aver fatto l'enne, tra un enne e l'altro, insomma, sono solita utilizzare il loro shampoo riflesso rosso con il bioliquefatto di Lausonia. Questo è uno shampoo che va proprio a ravvivare il rosso dei capelli e i capelli, diciamo, ramati. Dà proprio più luce ai capelli e li ravviva tantissimo, tant'è che spesso mi hanno detto, ma hai rifatto l'enne? In realtà non avevo fatto l'enne, ma avevo semplicemente utilizzato il loro shampoo. È un prodotto che non vado ad utilizzare sempre, ma lo tengo comunque ruotato con uno shampoo per lavaggi frequenti, o comunque uno shampoo un pochettino più trattante, come può essere per i capelli con forfora, perché ogni tanto ha una sorta di desfumazione, però comunque è un prodotto che mi piace tantissimo. Basta poco prodotto perché fa parecchia schiuma e va proprio a lavare a fuori del capello, dà proprio questa idea di capello che scricchiola quando l'avete lavato. Un prodotto di cui avevo provato un campioncino e che mi era piaciuto tantissimo, e quindi ho deciso di comprare la Full Sides, è il loro balsamo ristrutturante con proteine e olio di riso. Questo è un bocettino da 250 ml, la maggior parte dei loro prodotti, se non mi ricordo male, ha due formati, quello da 250 e quello da litro, oppure anche la confezione più piccola da 50 ml, ma non sono sicura che la facciano di tutti i prodotti. Questo è un balsamo ricco di, appunto come dice qua, proteine e olio di riso, ma in realtà anche la Malve e l'Altea. E quando voi lo applicate sui capelli, avrà sì questo effetto ristrutturante, che in realtà sui miei capelli io riesco a percepire poco, ma ha un effetto districante favoloso e secondo me anche un pochino nutriente. A me piace tantissimo. Qui dice che lo si può tenere in posa anche 10 minuti, quindi voi lavate i capelli, lo mettete in posa anche 10 minuti, in realtà io non arrivo mai ai 10 minuti, perché con 4-5 minuti massimo mi dà già quell'effetto settoso, di capello morbido, districato, che mi piace tantissimo. Anche la profumazione devo dire che non è niente male e si sposa, secondo me, benissimo con i cristalli. E anche questo è un prodotto che mi piace tanto. Non so però se riacquisterò anche la prossima volta questo, perché mi incuriosisce anche quel balsamo leggero. Però questo è veramente favoloso, quindi io vi consiglio di provare proprio i loro prodotti, perché sono top. Il suo consiglio di un'amica è per non riacquistare i cristalli liquidi, che in realtà poi alla fine andrò lo stesso ad acquistare, perché comunque avevo ancora del prodotto, quindi mi sono detta, ma proviamo qualcosa di diverso. Lei mi ha detto, prova questo spray anticrespo con Altea, che vedrai che non ti servirà neanche il balsamo. Io non ero molto convinta della cosa, perché comunque è in base a cosa, quindi mi sono detta, ma Valassi è un prodotto in base a cosa, in base a cosa, con base a cosa, possa andare a districarmi il capello così tanto da non utilizzare il balsamo. In realtà è proprio così, nel senso che io spruzzo questo prodotto, che va proprio a condizionare i capelli crespi, i capelli comunque da districare, semplicemente spruzzando il prodotto prima di passare la spazzola e prima del fondo. Io sono rimasta davvero colpita da questo prodotto, l'unica cosa che non mi piace per niente di questo prodotto, quindi che comunque mi porta ad utilizzare i cristalli, è la profumazione, perché non mi piace per niente, ma probabilmente magari vira anche un po' il profumo applicato sui miei capelli, non so, comunque è davvero un valido prodotto. Quindi se avete dei capelli comunque crespi, ribelli, ricci, secondo me, ma anche il capello liscio in realtà, perché è indicato sia per il capello liscio che riccio, però comunque un capello piuttosto problematico, che fate comunque fatica a districare, questo secondo me, con inabbinata magari anche il balsamo, e non da solo, è veramente un valido prodotto. Un altro prodottino che ho acquistato, ho utilizzato ma non ho ancora finito, perché in questo periodo i miei capelli non ne necessitano, è questo impacco emolliente. Fitophilos, oltre agli ennei, alle varie erbe tintorie, fa anche una serie di impacchi, io ho utilizzato questo emolliente, che è proprio indicato per i capelli, diciamo che hanno bisogno di essere protetti, idratati, illuminati, in questo momento idratati non troppo, o meglio, magari la lunghezza sì, però il quale capelluto mi sta dando un po' di problemi, quindi non lo sto utilizzando in questo periodo, ma a me è piaciuto davvero tanto, perché in quel periodo avevo proprio bisogno di nutrire, di idratare il capello, lo vedevo molto più corposo, quindi ottimo prodotto anche quello, poi in base magari alle vostre esigenze, potete andare sul sito e dare un'occhiata, su quali prodotti, quali impacchi fanno al caso vostro, poi, vi volevo mostrare anche i campioncini che ho terminato, e che mi sono piaciuti tantissimo, i primi che vi mostro sono questi due campioncini, del loro bagno doccia nutriente, con albicocca e olio extra virgini di oliva, allora, ha un profumo paradisiaco, fa una leggera schiumetta sulla pelle, meravigliosa, qui dice che comunque lascia la pelle morbida e vellutata, ed è vero, l'unica pecca secondo me di questo prodotto, per le mie tasche, è il costo, nel senso che se non ricordo male, un 250 ml, siamo dai 10 ai 12 euro, è sul prezzo preciso, non me lo ricordo, però è favoloso, lascia veramente la pelle morbida e vellutata, si sciacqua tranquillamente, non vi dà quell'effetto che alcuni gel doccia danno di, o comunque bagno doccia di patina sulla pelle, è veramente meraviglioso, quindi io ve lo consiglio anche questo prodotto, poi ho provato il loro shampoo, capelli con forfora, con olio di neem, allora, ovviamente con un'applicazione, perché io con due di queste ci faccio un'applicazione, perché ha capelli piuttosto lunghi, non sono riuscita a testare questa capacità di andare a eliminare la forfora, questa capacità trattante, mi ha un pochettino alleviato la sensazione di plurito che avevo, l'unica cosa che non mi è piaciuta è la profumazione probabilmente non buonissima, data dall'olio di neem, dal neem all'interno, però poi applicando l'altozione anticrespo, piuttosto che il balsamo, forse avevo utilizzato la maschera che vi mostro in questo caso, e mi era piaciuta veramente tanto tanto, questo andava proprio a lavare bene il capello, quindi magari uno shampoo da non fare due o tre volte alla settimana, a seconda della vagina, ma da alternare con uno più delicato, però comunque il lapinamento maschera, più questo mi ha lasciato dei capelli meravigliosi, la maschera di cui vi stavo parlando, è questa maschera rigenerante, nel vero senso della parola, lasciava comunque il capello proprio rigenerato, setoso, corposo, luminoso, veramente favoloso, anche questa vorrei comprare la full sight, perché mi è piaciuta davvero tanto, se avete la possibilità con dei campioncini, provate questo prodotto, io so che il campioncino in sé, in questo momento, non è più un prodotto che piace utilizzare, perché comunque c'è spreco di plastica e di tutto, però sinceramente io non ci sputo sopra, perché mi danno la possibilità, nel caso comunque di un mio cuoio capelluto, capelli comunque particolari, con diverse problematiche, di capire qual è il prodotto che fa al caso mio, quindi questo è sicuramente un prodotto che vi consiglio, al mille per mille, perché veramente, come dice il nome, è una maschera rigenerante. Altro prodottino che vi mostro, un prodottino scusate, campioncino, è questa crema corpo per le smagliature, allora non sono riuscita, con zenzero e buon sveglio, scusate non ve l'ho detto, non sono riuscita a testare questa capacità, contro le smagliature, ma si assorbiva benissimo, mi andava proprio a rendere la pelle più compatta, nel punto in cui l'applicavo, e sì, riuscivo a spalmare velocissimamente, nel senso, non faceva asce bianche, ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché ho un problema con le creme corpo, questo lì è basse, è basse, è basse, non riesco mai a farla assorbire questa top. Ultimo campioncino che vi mostro, è questa crema disciplinante, che non ho ancora terminato, con semi di lino, io non ho chissà che capelli da disciplinare, però sinceramente, mi è piaciuta davvero tanto, quindi mi piacerebbe alternarla ai cristalli, piuttosto che alla lozione anticrespo. Io con questo ho finito di parlarvi, di tutti i prodottini di Fitophilus, che sto utilizzando, fatemi sapere se conoscete questo brand, come vi siete provati con questo brand, se avete dei prodotti da consigliarmi, se volete aiutarmi a crescere, lasciatemi un like, un commento, io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, ciao!